Spesso mi hanno rinfacciato il carattere forte Quella che porta i pantaloni Un po' è vero Ma perché scusa? È un difetto? No, no, anzi Io sono sempre stata generosa nell'amore Mi sono sempre battuta con tutta me stessa Ma sei stata ricambiata? Sì, teoricamente Ma poi al dunque e alla coppia sono sempre io quella che faccio i passi concreti Ma in che senso? I miei sacrifici non sono mai stati capiti Chi è quella che ha sempre cambiato il lavoro? Io Chi è quella che ha sempre cambiato gli amici? Io E il dolce chi l'ha ordinato? Lui Io Ma grazie E il conto per favore? Certo Davvero buono Grazie Io ho preso la bruschetta Gli involtini di verza E le patate E le patate Tu il pata negra Le fettuccine ai funghi E il dolce Il vino a metà Fanno 44 euro Tu E 32 euro io Eh lo so È venuto un po' caro Ma lo sai cos'è? È stato il pata negra che ti ha portato su Mannaggia a te Ma non te ne sei accorta quanto costava? Eh Facciamo così Tu metti 40 E il vino lo pago io No guarda Facciamo così Ti metto 100 E il resto mangio Buonasera